Siracusa sparatoria in via Algeri, i carabinieri arrestano il responsabile del ferimento di un pregiudicato. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siracusa nell'anno 80 del 7 giugno sono intervenuti in via Algeri per il ferimento di un pregiudicato 29enne che si trovava agli arresti domiciliari. La vittima era stata colpita da due proietti di calibro .38 a entrambe le gambe e ricoverato l'Umberto I non in pericolo di vita. Le immediate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa hanno permesso ai carabinieri di identificare i responsabili della gambizzazione e di iniziare le ricerche. Nel pomeriggio dell'8 giugno i militari hanno rintracciato due giovani di 19 e 22 anni, entrambi pregiudicati e conosciuti dalla vittima, rinvenendo e sequestrando dopo alcune perquisizioni il revolver usato. Il 19enne è stato associato in carcere in quanto esecutore materiale del ferimento, mentre il 22enne è stato denunciato a piede libero per avere favorito la fuga del complice. L'evento sembrerebbe essersi verificato per un debito in denaro maturato dalla vittima.